Malgrado lo avesse lei stessa annunciato, da un paio di giorni la WWE ha tolto il ritorno di Seth Rollins dal programma ufficiale della prossima puntata di SmackDown, tanto che non compare più nemmeno nelle anticipazioni dello show pubblicate sul sito della federazione. La prima puntata del 2021 proporrà infatti Big E contro King Corbin, Sasha Banks e Bianca Belair contro Carmella e Bayley e in più il Mastino, il capo tribù, Roman Reigns avanzerà una richiesta misteriosa ai dirigenti della compagnia. Chissà di cosa si tratta, magari qui sotto se vi va nei commenti potete avanzare le vostre supposizioni. Ma di Seth Rollins? Niente, niente, stiamo parlando di Seth Rollins, cioè se torna, bam, è la notizia copertina, è quella più importante. Dunque, che ci abbiano ripensato? Oppure che per un qualsiasi motivo personale, familiare, Seth abbia detto no, al momento non posso, rinviamo? È difficile dirlo, però insomma, tutti gli indizi a disposizione al momento di registrare questo video lasciano supporre che Seth non ci sarà e che rientrerà in WWE un'altra volta.